Non scoprire in questo posto è che in inverno vedrai l'aurora boreale mentre in estate l'avvistamento delle balene quindi meglio di così non poteva andare Quindi se volete andare in vacanza questo era l'ultimo consiglio per questa sera però voi Se non andateci Potete continuare No sta così O vai qua o non vai Punto e stop Potete continuare a scriverci sulla nostra pagina di Facebook Potete continuare a farci sapere Anzi magari quando andrete in uno dei nostri posti Poi ci direte com'è stato se siete tornati vivi Perché ultimamente non è che si tornava troppo vivi Vabbè Tornasse E soprattutto troppo vivi O troppo morti Troppo vivi o troppo morti Hai detto mollo Ma pesa più mezzo pollo vivo o mezzo pollo morto? Stai facendo il video? No Niente questa sera quindi abbiamo parlato di viaggi Ma vi ricordiamo che sulla nostra pagina Facebook anche continua cosa? Il nostro concorso del disco eletto Venite votate Se il più votato andrà in onda settimana prossima Per partecipare al disco eletto basta comprare i biglietti Che sono in vendita sul nostro svalvolati store Oppure essere parente di uno dei conduttori Che inizia con R e finisce con Anauro Perfetto Perfetto Ringraziamo il nostro Massimo che ci ha tenuto compagnia nella prima parte Mezz'ora torna Ciao Ciao è andato il nostro Alonso che purtroppo è sempre costipato e costretto Mi ha detto mezz'ora torno sei mesi fa Sempre un attimino costretto a comprare le sigarette Ora che vado via mezz'ora torno Io stavo già salutando il nostro Alonso che lui ha delle abitudini strane Che l'ho detto io sono uno che caga in giardino Perché alla fine lui è così Ciao Alonso Il nostro dottor No che ci ha tenuto compagnia Ciao ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori Bravo Mezz'ora e vengo Mezz'ora e vengo No non è vero Dove ti vieni? Molto meno Ah ok 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 Antonello che dire siamo giunti al termine C'è un coglione in fianco a te perché si chiama coglione Alla destra o sinistra Non puoi dirgli niente Non c'è nessun comunicato ufficiale Ma non lo so Tipo non lo so Tu avresti un comunicato così da faglia al volo Oh yeah La segreteria Ce l'avresti un comunicato così al volo Sì sì ce l'ho il comunicato è sempre pronto Sei pronto? Sei pronto? Vai Si comunica Ah sono due Scusami li puoi far risuonare Eh infatti Si comunica che gli svalvole tenere vi aspettano settimana prossima Che schifo con Rutto sotto Con Rutto sotto mamma mia Dal DJ Dargi è tutto Bello Siro L'appuntamento è sempre qui Stesso giorno stessa ora Stesso bar Non siamo al bassa storia stesso C'ho sto stesso bar Questo è Svalvola Tioner Svalvola Tioner Aller girls are tempting But I'm empty Then you're fun And they say Do you need me? Do you think I'm pretending? Or make you feel like you're telling? That's really cause Oh Grazie a tutti.